Il percorso parte da Arnad, dal parcheggio poco distante dalla strada Maccabi. Grazie a tutti. Il santuario di Maccabi, dedicato alla Madonna delle Nevi, ha origini antiche. Esistono documenti che attestano la presenza di un edificio religioso già nel 1503. Questo primo santuario era di dimensioni più ridotte rispetto all'attuale struttura, che è stata ricostruita nel 1687. Nel corso dei secoli, il santuario ha subito vari interventi, tra cui la giunta delle navate laterali e della sacrestia nel 1689. Proseguiamo la salita oltre il santuario. Raggiungiamo il borgo di Maccabi. Il forte di Maccabi fu costruito nel XIX secolo, durante l'occupazione napoleonica, come parte del sistema difensivo austriaco Zabaudo. Fungeva da avamposto per il più noto forte di Bard. La sua posizione strategica lo rendeva un importante punto di difesa nella regione. Il forte è stato trasformato in ostello e ristorante, dopo essere stato restaurato e rinnovato. Proseguiamo la salita oltre il forte. Il forte è stato trasformato in ostello e rinnovato. Il forte è stato trasformato in ostello e rinnovato.